ma non mi vado con quel livello quando siamo arrivati ptp poco in mezzo da un'occhiata in mezzo guarda qua sesso sesso mamma mia che cazzo di gol mamma mia la sessama questo gol sesso sesso pazzo pazzo come che cazzo di gol guardate il gol guardate come mi chiamo